Viva l'Italia! Dai! Discesa dal centro di Perugia Yeah! Siamo al castello Sforzesco Ma che bel castello, ma con dirondi rondello Ci sono i vinti ovunque Che profondo è sto posto? Ma qua c'è la cabina regia Le persone passano, possono dire quello che vogliono Registrare un audio e poi viene composta una traccia unica Un progetto mio è di paine quadrelli Cioè, spiegami io Ti riascolti, torna indietro col dis Senti, la tua voce Un po' di nuovo il tuo P***a che roba oh Il nuovo basement questo Un giro Tra un anno E' una cazzola 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 Loro sono di Radio Rahim, una radio nata un mese fa e io li seguo su Facebook perché utilizzano i vinili. Ci sono un sacco di vinili in giro. Radio Rahim, Radio Rahim, una radio in vetrina sulla strada. Milano è frenetica, potente, dinamica, è veramente una pentola a pressione dove un sacco di persone si incontrano, fanno, disfano, vivono. Ciao! Milano è viva e mi regala sempre una certezza, quella che non c'è assolutamente la possibilità di annoiarsi.